gentili dame gentili signori bentornati nel canale e senza troppi indugi sigla in questo secondo video parleremo del reggio assenso e cioè del permesso che un monarca o il capo di un casato dinastico concede a colui che intende sposarsi seguendo le regole del casato o del regno perché esistono le leggi dinastiche cercheremo con questo video di rispondere a due principali ragioni la prima ragione è garantire una legittimità della successione alla corona o al trono la seconda ragione è regolare i matrimoni in particolar modo dei sovrani e principi ereditari e dei figli dei principi ereditari e inoltre dei futuri capi delle casate reali come sappiamo tutte le moderne democrazie così anche società che hanno una struttura legislativa fondano la loro sopravvivenza sull'osservanza categorica di queste leggi e le dinastie e le famiglie reali non sono diverse specialmente coloro che sono alla guida di un popolo e restano simbolo di unità stabilità e prosperità tra le famose dinastie europee o del mondo la successione legittima può essere regolata dalla legge sallica oppure dell'abrogazione con la legge semisallica o recentemente dalla prima genitura è uguale e cioè il trono oppure corona se preferite ciò significa che il trono viene ereditato dal primo genito indipendentemente che sia femmina o maschio l'immagine che vedete mostra la famiglia reale svedese e la modifica della successione al trono nel 1980 passando dalla legge salica che favorisce la successione maschile diretta alla legge della primogenitura assoluta che favorisce la successione al trono al primogenito o alla primogenita il re di svezia carlo gustavo non nascose la sua invitazione dato che la legge fu modificata dopo la nascita del principe ereditario carlo e della sorella maggiore vittoria il governo unanime costrinse il re a modificare la linea di successione al trono favorendo la figlia primogenita vittoria nel regno unito nel 2015 e la modifica della legge di successione al trono non influenzò la linea di successione così com'era prima di quest'ultima modifica ciò portò alla principessa anna secondo genita dalla regina elisabetta seconda a restare quarta dopo i fratelli minori eduardo duca di edimburgo andrea duca di york e l'attuale sovrano re carlo questa influenzò solo coloro che innacquero dopo questa riforma per questa ragione la principessa carlotta mantiene la sua posizione legittima dopo il fratello maggiore il principe george e non sorpassata dal fratello minore il principe louis sappiamo che le leggi dinastiche possono essere cambiate modificate se preferite abbiamo un esempio in danimarca quando il re federico nono ebbe solo tre figlie e nessun figlio maschio a quel punto dopo di lui la corona sarebbe passata a suo fratello minore il re consultando il governo poter modificare queste leggi così che alla sua morte la figlia primogenita la principessa margherita poteva scendere al trono e ricevere la corona di danimarca salendo col nome margherita seconda di danimarca la quale regnerà per più di 50 anni abdicando nel 2024 in favore del suo figlio maggiore federico il 19 giugno del 2014 il re con carlos il primo abdicò in favore di suo figlio felipe che salì al trono con il nome di felipe sesto in quella circostanza si applicò per la prima volta l'articolo 57 della costituzione spagnola che asserisce che la corona di spagna può essere irritata solo dai discendenti del re con carlos primo il nuovo re felipe sesto prestando giuramento alla costituzione di fronte al senato e al popolo spagnolo inaugura così un periodo in cui la corona di spagna diventa un simbolo di legalità stabilità e per il popolo tutto prosperità questo in totale contrasto da suo padre il re con carlos che ricevette la corona di spagna succedendo alla morte del generale franco il quale lo scelse come suo successore nell'eventualità della sua morte come abbiamo potuto vedere con gli esempi della famiglia reale inglese quella svedese danese e spagnola le leggi dinastiche servono per garantire la legittima successione al trono di un membro diretto della dinastia ad oggi la legge salica è ancora in vigore in tre grandi famiglie dinastiche il savoia in italia di asburgo lorina in austria e il borbone e buona parte in francia prima di addentrarci nella questione dinastica italiana voglio mostrarvi come funziona la legge salica utilizzando la casatta asburgo lorina e la successione che vede in un periodo di estrema crisi alla successione dell'imperatore francesco giuseppe l'imperatore francesco giuseppe ebbe molti figli tra cui il principe rodolfo il quale si suicidò all'etate 30 anni non lasciando figli il titolo di principe ereditario passò così a un suo cugino il principe francesco ferdinando il quale però venne assassinato il 28 giugno 1914 a sarajevo al contrario del principe rodolfo il principe francesco ferdinando ebbe dei figli ma i loro figli nacero da un matrimonio morganatico e cioè la moglie e i figli non poterono ereditare il trono e siccome il trono non può essere ereditato da figlie dunque dunque il titolo di principe ereditario alla corona asburga fece un altro salto generazionale andrò a posarsi come anche la corona sul capo del principe carla poi divenuto l'imperatore carl d'asburgo lorena un discendente diretto dell'imperatore francesco secondo in linea maschile con la caduta dell'impero austro-ungarico carl divenne capo di casasburgo e li fu succeduto dal suo figlio otto e alla sua morte dal figlio maggiore carla ed in rispetto della legge sallica ancora in vigore nel casato osburgo la successione maschile diretta è ciò che vediamo rappresentata in questa fotografia tenendo ora conto di ciò che abbiamo compreso precedentemente sull'importanza dell'osservanza delle leggi dinastiche in particolar modo delle regole che guidano le case dinastiche cercherò in maniera semplice e veloce di mostrarvi chi detiene la prerogativa di pretendente al trono o alla corona d'italia nel casato dei savoia facciamo un riepilogo veloce l'italia divenne una repubblica il 18 giugno del 1946 in quel mese l'ultimo re umberto secondo lasciò l'italia per l'esilio in portogallo e vi rimase in esilio fino alla sua morte nel 1983 ed è durante questo periodo che il suo unico figlio il principe vittorio emanuele principe di napoli iniziò a frequentare una giovane campionessa olimpica chiamata maria doria il principe vittorio emanuele principe di napoli e figlio del capo di casa savoia il re umberto secondo portò avanti per oltre dieci anni la sua relazione con la signorina maria doria è certo che durante questo periodo il negoziato per ottenere il reggio assenso al matrimonio non ebbe successo il principe vittorio emanuele consapevole quindi dopo un lungo periodo di consultazione con il padre al riguardo del matrimonio che qualora decidesse di procedere col matrimonio con la signorina maria doria senza il reggio assenso di suo padre il capo di casa savoia perderebbe per sé e per i suoi successori ogni pretesa e ogni titolo come capo di casa savoia e come erede o pretendente del trono d'italia l'11 gennaio del 1970 ebbe luogo con rito civile negli stati uniti a las vegas il matrimonio tra il principe vittorio emanuele principe di napoli e la signorina maria doria non è comprovato che il re umberto secondo fosse a conoscenza che il matrimonio del figlio il principe vittorio emanuele avesse luogo quel giorno dell'11 gennaio del 1970 a las vegas la funzione fu celebrata secondo il rito civile negli stati uniti solo un anno dopo nel 1971 a terran in iran il principe vittorio emanuele e sua moglie ora marina doria celebrarono il loro matrimonio secondo il rito cattolico non mi è possibile confermare se il re umberto secondo o tantomeno la moglie la regina maria giosè parteciparono alla funzione religiosa a terran e nemmeno se altri membri del casato di savoia quale la sorella gabriella maria pia parteciparono alle nozze a terran possiamo certamente dedurre che il re non partecipò alle nozze né in qualità di padre ma soprattutto non in qualità di capo di casa savoia perché ciò avrebbe simboleggiato il suo assenso a quel matrimonio che andava in contrario con le leggi di casa savoia vorrei ora proporvi questa porzione di intervista rilasciata dal giornalista enzo biaggi alla moglie di vittorio emanuele marina doria a pochi giorni dalla morte di umberto secondo e un paio di anni dopo il loro matrimonio il giornalista domanda a marina doria se il suo fu un matrimonio contrastato all'interno del casato sentiamo la sua risposta umberto di savoia non era favorevole al suo matrimonio perché sulla maestà non è mai stato opposto al mio matrimonio ma credo che aspettava per suo figlio un'altra cosa è normale in questa famiglia ci sono le tradizioni e aspettava magari che il suo figlio sposasse una principessa di sangue reale e Maria José di che opinione era? Maria José è sempre stata molto vicina e mi ha aiutato moltissimo anche la sua famiglia la regina Elisabetta quando vi siete conosciuti meglio con l'ex re che cosa ha scoperto? che idea si è fatta di lui? il re è sempre stato con me una persona meravigliosa con molta umanità una dignità incredibile e c'è un rispetto incredibile per lui anche oggi l'ho visto molto male e ha sempre questa dignità che devo dire è incredibile nell'intervista la moglie di Vittorio Emanuele afferma che non vi fu nessun tipo di contrasto da parte di Umberto II al suo matrimonio con il primo genito, il principe di Napoli tuttavia però è il proprio marito, il principe Vittorio Emanuele a contraddire la propria moglie in un'intervista rilasciata a Lenzo e Biagi lo stesso anno sentiamo che cosa dice Vittorio Emanuele al riguardo del contrasto che il padre ebbe nel suo matrimonio con Maria Doria senta, il suo matrimonio non è stato per caso ostacolato? un po' così, insomma siamo stati fidanzati per 13 anni per quello è anche stata una ragione per la quale mi sono messo a lavorare molto perché ho preso la mia indipendenza e così dopo 13 anni ci siamo potuti sposare vi è chiaramente contraddizione tra ciò che Vittorio Emanuele e sua moglie Maria Doria affermino circa il supporto da parte di Umberto II, capo di Casa Savoia e dell'intera famiglia Savoia ai loro matrimoni ciò che è chiaro sono le leggi dinastiche che si pronunciano contrari al loro matrimonio sulla base del fatto che il principe Vittorio Emanuele, principe di Napoli non sposò, primo, senza consenso reale di suo padre e secondo, non con una principessa reale ci siamo posti la domanda all'inizio di questo video a che cosa servono le leggi dinastiche? il caso dei Savoia ci dà una risposta le leggi dinastiche servono per garantire una legittimità ai successori delle casate e delle famiglie dinastiche e queste leggi servono per prevenire crisi o contrastarle e garantire armonia e ordine la domanda dunque sorge spontanea se il principe Vittorio Emanuele, figlio dell'ultimo re Umberto II sposò sua moglie Maria Doria senza il consenso o il reggio consenso del re dunque chi è oggi l'erede di Casa Savoia dalla morte di Umberto II nel 1983? per rispondere a questo quesito dobbiamo prendere in considerazione la legge Sallica e immaginare che il re Umberto II, capo di Casa Savoia avesse concesso la benedizione al figlio di sposare la signorina Marina Doria a condizione però che i loro figli non avrebbero mai avuto la pretesa di reclamare il titolo di re d'Italia o quello di capo di Casa Savoia abbiamo un esempio simile nel casato degli Asburgo Lorena dove ai tempi dell'imperatore Francesco Giuseppe il cui unico erede il principe arciduca Francesco Ferdinando volle sposare una donna di rango inferiore l'imperatore concese il matrimonio a patto che la loro prole non poteva mai reclamare il trono d'Asburgo o la dignità di capo famiglia che porta alla questione dinastica italiana è una possibile soluzione tra i due membri in conflitto Vittorio Emanuele di Savoia discendente diretto di Vittorio Emanuele II padre della patria e Amadeo d'Aosta discendente di Amadeo I re di Spagna I e primo duque d'Aosta egli stesso discendente di Vittorio Emanuele II padre della patria noi sappiamo che il problema sorge con il matrimonio di Vittorio Emanuele e di sua moglie Maria Doria la quale non era di rango e uguale al principe e dunque il loro può essere ritenuto un matrimonio morganatico se il re Umberto II capo di casa Savoia avesse concesso la benedizione il reggio assenso il loro figlio Emanuele Filiberto o meglio conosciuto come il principe di Venezia e i loro discendenti non avrebbero potuto avere nessuna pretesa al trono d'Italia o al titolo di capo di casa Savoia supponiamo che i due cugini Vittorio Emanuele principe di Napoli e su altezza reale il principe Amadeo duca d'Aosta riconoscano che Emanuele Filiberto sia un principe dinastico a tutti gli effetti e che dunque sebbene il matrimonio dei suoi genitori fosse morganatico egli abbia ricevuto tutti i diritti la dignità di un principe dinastico ciò porterebbe alla sua prole Vittoria e sua sorella minore a essere principessa del regno ed eredi alla corona ma dato che la legge sallica è ancora in vigore nel casato dei Savoia e che questa non fu rimossa da Vittorio Emanuele principe di Napoli o da suo padre Umberto II quando egli re d'Italia ne ebbe la possibilità e il potere Vittoria resterebbe dunque nella difficoltà di non poter ricevere legittimamente la corona d'Italia e diventare anche capo di famiglia la corona farebbe un salto generazionale tornando indietro fino a Vittorio Emanuele II e al suo secondo genito maschio Amedeo I re di Spagna e duca d'Aosta e ai suoi discendenzi Emanuele Filiberto I e i loro figli Amedeo duca d'Aosta che decedù durante la seconda guerra mondiale succedetto dal titolo a suo fratello minore Aimone il quale lasciò il titolo di duca d'Aosta ai suoi discendenti il figlio maggiore Amedeo duca d'Aosta ed Aimone oggi duca d'Aosta e di un futuro su altezza reale il principe Umberto che detiene il titolo di principe di Piemonte titolo che precedentemente fu detenuto dal re Umberto prima di ascendere al trono seguendo dunque questa logica della concordia e della ripacificazione tra i due grandi membri del casato e cioè i discendenti di Vittorio Emanuele principe di Napoli e i discendenti di Amedeo d'Aosta duca d'Aosta la questione dinastica alla successione al trono d'Italia e al casato di Savoia potrebbe con un po' di strampo alle regole e comprensione avere una soluzione pacifica che porterebbe di nuovo i due membri o i discendenti di questi due membri del casato a riappacificarsi e a riunire il casato come lo è sempre stato la pace è possibile ma non è mai facile non è semplice occorre umiltà e dialogo e in questo momento nel casato dei Savoia non vi è dialogo questa estate è stata un'estate in cui si è tornati a parlare invece delle diatribe di questa saga Osta-Savoia Savoia-Osta come sarà il futuro? non lo so non ci sarà né guerra né pace perché io le devo dire che questa storia mi ha molto afflitto trovo che è una storia triste e vergognosa non le posso dire altro lascerò all'avvocata giudice di decidere il resto mi è totalmente indifferente di fronte a una platea immensa qui a Gorizia lei è capo della casa rispetto al suo cugino Vittorio Emanuele IV la questione legittimista come è andata a finire è lo stato dell'arte così dicono le leggi di famiglia che sono come si dice il biglietto di Vittorio Emanuele III e quindi da allora queste leggi sono le leggi patenti le leggi patenti esattamente e così e poi Drey che disse che ricordo al principe Vittorio Emanuele con una lettera in cui diceva che si fosse sposato senza consenso aveva perso ogni possibilità di ereditare sia il titolo che diciamo o eventualmente sovrani ma sono in Italia adesso è una repubblica e quindi questa è una cosa che mi ha scritto due volte ma avete ben preciso che fuori sul mio sito quindi su questo non si discute la la consulta dei senatori ha fatto suo questo ricordando che questo era avvenuto ma è Drey stesso che ricordò a tutti che questo era avvenuto prima che sarebbe avvenuto e poi dopo il matrimonio ha impresso ogni possibilità di ereditare un titolo o di essere capo di famiglia l'opinione di Vittorio Emanuele circa la validità del suo matrimonio e della sua prole è cosa ben saputa così è anche l'opinione di Amedeo D'Aosta circa la sua legittimità come nuovo capo di Casa Savoia dopo la morte di Umberto II sentiamo d'ora l'opinione della nuova generazione a partire da Emanuele Filiberto ma tutte queste polemiche del ramo a Osta che dice noi siamo noi i pretendenti eccetera eccetera lei cosa ne pensa di questo? ma ci sono anche persone che camminano per strada senza scarpe che dicono che sono la reincarnazione di Dio che urlano lì che voglio dire ognuno può pretendere quel che vuole credo che c'è la legge la legge del sangue si dice non so se è una legge c'è il re il figlio il primo genio e poi si continua così questa Amedeo può pretendere quello che vuole adesso convince per il momento solo lui e poche persone di nuovo lì vedi è un peccato perché al posto di provare a fare qualcosa tutti insieme giustamente per portare avanti o per per avere per portare avanti questo paese per poter andare avanti su un sogno per poter parlare agli italiani dei veri valori di quello che rappresentava la famiglia Savoia la monarchia e il nostro casato io trovo che si fa una pessima figura citando il principe Vittorio Emanuele credo che dopo le parole di Emanuele Filiberto si possa dire non vi sarà né pace né guerra per questa ed altre ragioni Emanuele Filiberto si sbaglia nel dichiarare che la legge del sangue è ciò che conta perché se guardiamo semplicemente la legge del sangue allora sarebbero molte le persone che potrebbero acclamare il diritto del trono di molte dinastie d'Europa e le leggi dinastiche furono create proprio dai propri capi di queste casate per assicurare la legittimità legale e legittima secondo il reggio assenso per contratto di matrimonio ciò che è certo è che la causa dell'Amadeo d'Aosta e dei suoi successori come capo di Casa Savoia non è supportato soltanto da istituzioni come l'Unione Monarchica Italiana o il Consiglio dei Senatori del Regno ma anche da membri del casato Savoia stesso come sappiamo il re Umberto ebbe molti figli Maria Gabriella Vittorio Emanuele Maria Pia Maria Beatrice e tra loro vi sono coloro che supportano la causa di Amadeo Duca d'Aosta in conclusione possiamo dire che le leggi dinastiche servono per garantire la legittimità di un successore al trono o alla guida di una dinastia e per quanto riguarda la questione dinastica italiana queste leggi dinastiche promulgate da Amadeo III di Savoia re di Sardegna oggi riconoscono la stirpe di Amadeo Duca d'Aosta e quindi di Aimone e in futuro di Umberto come legittimi pretendenti al trono d'Italia e capi di Casa Savoia Gentili dame e gentili signori vi ringrazio per aver preso visione di questo video e vi invito a registrarvi nel canale lasciare un mi piace su questo video cliccare la campanella per i prossimi contenuti che rilascerò nei prossimi video parlerò del reggio assenso nei matrimoni e nelle dinastie delle famiglie reali in giro per l'Europa guarderemo in dettaglio come essa viene rilasciata e le procedure legali e istituzionali che comportano vi ringrazio ancora a presto a presto a presto a presto a presto